Tempo di lavori a Casalza Ligure, partiti gli interventi alla scuola elementare per avere una mensa più grande e moderna che permetterà di andare incontro alle esigenze dell'istituto e di dare un servizio continuativo di tempo pieno. Molto atteso dai genitori, che lavorano fuori comune, sarà finanziato con un contributo ministeriale di 250.000 euro. La fine è prevista per l'estate, in modo che si attiva già per il prossimo anno scolastico. Se il comune troverà altri finanziamenti, ci sarà poi un altro lotto da fare per creare nuove aule, perché le iscrizioni sono in aumento. L'altro intervento in corso è in pieno centro urbano per consolidare il muro antistante e sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo. Un muro fatto nei primi degli anni Novecento, per cui ha necessità non solo di un consolidamento, ma proprio anche di un restauro architettonico. Unitamente a questo stiamo mettendo a posto un murales tipico Ligure, dove è raffigurato un nostro concittadino storico Battista. Questo intervento è finanziato tramite il piano strategico regionale per quanto riguarda i centri urbani, oltre 200.000 euro di finanziamento. I lavori sono iniziati, proseguiranno e avremo sia un miglioramento estetico nel centro pieno cittadino, sia anche una migliore sicurezza per i fruttori, sia della parrocchia, ma anche tutti i bambini che vanno sul piazzale della chiesa e quindi avranno anche una zona più sicura e più agevole per poter fare le proprie attività. I lavori riguarderanno anche il piazzale? Sì, metteremo anche una paratia proprio per cercare di migliorare la sicurezza del piazzale, perché il piazzale logicamente è in una posizione molto alta rispetto alla strada, quindi c'è anche la necessità di metterlo ancora più in sicurezza. È un intervento che abbiamo fatto anche di concerto con la parrocchia, perché quello è il cuore di Casarza, siamo proprio in pieno centro urbano.